Ost 2019, ci troviamo allo stand di Agrumarie Riunite, una società palermitana che realizza prodotti per la prima colazione e siamo in compagnia di Alessandro Albanese, il direttore commerciale Italia dell'azienda. Buongiorno Alessandro e bentornato. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti, grazie e ben ritrovati. Come anticipava Fabio, siamo un'azienda siciliana con una storia di oltre 50 anni nel Beverage Solution, quindi noi offriamo soluzioni per la prima colazione alberghiera e i nostri cavalli di battaglia sono i prodotti destinati e dedicati all'hotelleria italiana, distribuiti in tutta Italia con una rete vendita diretta, con rete di distributori. I nostri prodotti di punta sono i concentrati di frutta che oggi raggiungono una qualità eccezionale con il 95% di frutta, senza zuccheri aggiunti e senza conservanti, quindi riponiamo una grande attenzione anche nei confronti della salute dei clienti dei nostri alberghi italiani. Qui a Osta abbiamo peraltro il piacere finalmente di presentare un'importante diversificazione aziendale, pertanto dalla prima colazione abbiamo il piacere di iniziare un approccio anche al mondo della mixology, quindi al mondo del cocktail, dei cocktail destinato e dedicato a chi apprezza e gradisce sorseggiare un cocktail, un aperitivo alla fine della propria giornata. Quella che avete visto negli scorsi secondi è la linea intera presentata qui a Osta, di quante varietà stiamo parlando? Oggi abbiamo cinque marchi di punta, Bevi Più è il marchio di punta nell'ambito della prima colazione alberghiera, con la sua declinazione nel Bevi Più Gold che appunto è la linea senza zuccheri aggiunti al 95%, è l'ultimo nato ma non per importanza bensì per data è appunto Upgrade, il nostro payoff è Up Your Spirits e vogliamo dare un impulso e uno stimolo alla vitalità, alla vivacità che caratterizza comunque l'Italian Style nel mondo. Detto poi da un'azienda palermitana che ha anche una sede a Rimini con cui serve tutto il nord Italia direi che è il massimo dell'orgoglio per chi realizza prodotti italiani. Alle nostre spalle abbiamo il barman che nel frattempo si appresta a preparare proprio con questi prodotti della nuova linea dei cocktail. Assolutamente sì e anche l'orario giusto Fabio possiamo permetterci di fare un aperitivo e dare una sferzata a questa uggiosa giornata milanese. Siamo al quarto giorno, ormai insomma siamo a metà del quarto giorno, quanto siete soddisfatti dei precedenti tre giorni per l'esposizione di OST 2019? Noi siamo decisamente soddisfatti, quest'anno per noi è stato un importante investimento in termini di posizione, in termini di dimensione, in termini di immagine dello spazio. OST è ormai la vetrina dell'ospitalità internazionale più importante, è una vetrina in cui bisogna esserci, una vetrina in cui bisogna esserci anche con il giusto abito e noi speriamo di esserci riusciti. Alessandro, grazie. Attendiamo il barman che vada a servire il cocktail per poterlo provare e degustare finalmente a telecamere spente. Ringrazio te per la cortese collaborazione. Grazie Fabio, saluti a tutti.